Grazie a tutti dai un minuto un attimo che chiedo se c'è lui ho proposto se la cosa funziona tu devi esserci ho proposto gita scolastica in bici sentiero di santa Giulia un'aperta come la notte arrivi domani sera domani sera arrivo cazzo le dici c'è una visita con cosa da cosa da che sono che sono che si sono cazzo 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 Sì, sì, lo sa. Sì, sì, sì. Fiorenza. Sì, sì, sì. 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 Sì. Sì, sì. 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 Sì.